Credo che non cambierà tra l'amministrazione Trump e quella Biden, anche Biden si muoverà con l'idea di make America great again, cioè riportare l'America alla sua posizione di grandezza, il problema è intendersi su che cosa definisca la grandezza, quando gli americani, quando gli Stati Uniti erano un paese isolato dal mondo, che si faceva solo gli affari suoi, nessuno se lo filava sostanzialmente. La grandezza degli Stati Uniti è arrivata quando l'America è diventata il leader di quello che si chiamava una volta il mondo libero, cioè quando è stata capace di essere un esempio per gli altri, perché un leader ha bisogno di seguaci innanzitutto. In questo senso io credo che Biden orienterà la sua idea di fare l'America ancora un paese grande, uscendo da una logica di gioco a somma zero, in cui il perseguimento dei miei interessi non può che andare a scapito di quello degli altri. Credo che al di là della sua cultura politica, Biden in questo sarà aiutato dalla sua dura esperienza personale. Ha avuto una vita difficile e penso che pochi come Biden abbiano ben chiaro che la grandezza della vita dei paesi come delle persone è fatta dalla ricchezza delle relazioni che abbiamo in tessuto, non da quello che possediamo tra le cose, ma dalle relazioni che abbiamo con gli altri. E quindi credo che questo atteggiamento lo aiuterà a ricomporre un sistema in cui gli Stati Uniti siano grandi perché hanno molti seguaci, molti amici, molti alleati, perché sono di esempio di sprone agli altri. Dalle questioni ambientali, alle questioni di genere, alle questioni di una maggiore eguaglianza, di un sistema economico che sia più inclusivo, più rispettoso del lavoro e meno della ricchezza di partenza. In fondo questa è stata la grande elezione americana degli anni in cui l'America era grande.